Siamo con il presidente della Fulgor Cardano, Achille De Mori, al termine della partita. Oggi sappiamo che è il suo compleanno, ci ha detto il suo mister, direi un bel regalo quello che vi ha fatto la squadra. Beh, sicuramente è il più bel regalo che potessi ricevere, il risultato mi sembra che non faccia una piega, è chiaro che noi a Castellanza ci troviamo bene, è un campo che ci porta bene, è la squadra che è tecnicamente valida e quindi su questi bei campi riesce a esprimersi al meglio, purtroppo venivamo da un periodo non tanto felice, invece oggi siamo riusciti forse a tirarci fuori delle sabbie mobili definitivamente. Direi che adesso in questo momento la Fulgor comunque emana il suo destino, perché da una parte in un campionato così bizzarro c'è la possibilità di puntare eventualmente anche ai playoff. Ma sarebbe un risultato isperato, visto come erano concetti solo fino a due settimane fa, concetti più che altro moralmente, perché sul piano del gioco c'è sempre stata una grande attenzione da parte dei ragazzi, è stata un'annata un po' sfortunata, nel giro del ritorno non riusciamo a segnare, purtroppo nel calcio quando non si segna è un po' duro andare avanti. Ecco Presidente, gli auguri li facciamo noi, magari lei vuole fare una dedica al suo gruppo? Ma io la dedica, la faccio volentieri, soprattutto in una domenica così bella per me, oltretutto ne approfitto anche per fare gli auguri alla Castellanzese, perché mi sembra una società veramente modello con la M maiuscola, quindi fa sempre piacere venire a giocare con questa società qui, quindi gli in bocca al lupo lo faccio di cuore veramente alla Castellanzese. Ringraziamo il Presidente della Fulgor, arrivederci. Grazie di tutto e grazie per l'accoglienza soprattutto. Siamo con il Presidente Affetti al termine di una partita, a cui Presidente lasciamo l'onere di commentare. È proprio l'onere, partita che è nata male contro una squadra brillante, determinata, differentemente da noi che purtroppo l'abbiamo subita, questa è la differenza. Il risultato ci sta, meritata, strameritata. Noi non dobbiamo rassegnarsi perché il campionato ancora può riservare non tanto, perché ormai i play-out sono certi, ma soprattutto ci si deve mettere in testa che la condizione che dobbiamo raggiungere è quella ottimale, quella che sarà utile per affrontare i play-out e per vincere, perché poi dobbiamo vincere. Non siamo rassegnati, assolutamente. Presidente, comunque anche raggiungere i play-out in considerazione dei due impegni che abbiamo potrebbe diventare anche una cosa difficile. Sì, questo è vero. Infatti io immagino di poterli raggiungere perché penso che la squadra reagisca e perché deve reagire. Dichiaro che dopo una prestazione del genere, quando subisci i quattro gol, con una squadra che ha dominato, è normale che succeda una cosa del genere. È ovvio che noi abbiamo anche l'handicap di alcuni infortuni, però sperando che rientri Moretto, che lo stesso Nardone possa essere in condizione, idem per quanto riguarda Ricchi Colombo, insomma c'è tempo per lavorare, ma io penso che alla fine i play-out li faremo e speriamo di arrivare in condizione di far bene. Ringraziamo il Presidente Affetti, arrivederci.